Prima un doveroso ringraziamento ai valori aggiunti della Liucca, al di là della qualità dello studio. Le associazioni presenti in Ateneo, il campus universitario, le esperienze all'estero, la pratica sportiva, la propensione alla condivisione e alla sostenibilità. Poi, dalla rappresentante degli studenti Federica Narducci, intervenuta all'incontro con i vertici di Regione Lombardia, sono arrivate le note dolenti, trasporti e inflazione. La stazione ferroviaria è distante dalla struttura universitaria e poco collegata al territorio, e la frequenza dei servizi di mobilità è limitata e scarsa, soprattutto nel weekend. Inoltre, nell'ultimo anno si è aggiunta la spesa per la navetta da e per la stazione, un servizio che precedentemente veniva fornito gratuitamente agli studenti. In quest'ultimo periodo, uno dei temi principali che stiamo affrontando è la crescente inflazione, che per noi ha già significato l'aumento dei costi di vita, principalmente per l'alloggio, i beni alimentari e di consumo, e non ultimo per il divertimento. Ho appena trascorso il primo semestre dell'anno accademico corrente in Francia, e ho potuto constatare che ricade sulle famiglie la quasi totalità dei costi per le esperienze all'estero, poiché le borse di studio europee riescono a coprire una piccola parte delle spese per le esperienze formative. Credo quindi, a beneficio di queste opportunità virtuose, che consentono di formarsi all'estero anche per migliorare l'andamento dell'economia italiana, che vengano pensati dei meccanismi di borse di studio aggiuntive, statali o regionali, a supporto dell'impegno degli studenti. Infine, un appello affinché la residenza dell'Ateneo, che ospita oltre 300 studenti, venga ristrutturata.